Salve a tutti cari niconisti e non niconisti in ascolto. Io sono Riccardo Bucchino, fotografo professionista e voce di questo canale. In questa serie di video voglio parlarvi in maniera approfondita dei sensori delle nostre fotocamere. Cercherò di spiegare questo argomento molto complesso nel modo più semplice possibile, però senza banalizzare. Vi racconterò di aspetti tecnici, ma anche di storia e curiosità sui sensori. Questo è il primo video e vi darà le basi per seguire i prossimi, per cui ascoltatelo fino alla fine. Un paio di cose che forse già in molti conoscono ve le svelo subito. I sensori CCD sono analogici, mentre altre tipologie, come per esempio i CMOS, lo sono solo in parte. Tutti i sensori, esclusi i Foveon, sono monocromatici e servono delle matrici colore o altre soluzioni per ottenere immagini a colori. Ne consegue che le prime fotocamere a far uso di sensori, che all'epoca erano solo di tipo CCD, realizzassero fotografie in bianco e nero e non digitali, erano totalmente analogiche. Questo porta inevitabilmente a domandarsi perché chi vi sta parlando sostiene che il CCD, il più celebre dei sensori digitali, non sia digitale? La risposta non è semplicissima e la troverete nel video di questa serie dedicato ai CCD. Se invece siete curiosi di conoscere la storia dei sensori, non temete, ho preparato un video anche su quello, sulle prime fotocamere digitali e su alcune altre curiosità legate al mondo della fotografia digitale, tra virgolette. Ma come sono fatti? Beh, fondamentalmente un sensore è un circuito realizzato con dei semiconduttori. Questo sistema, per via di come è costruito e dei materiali di cui è composto, risulta essere fotosensibile, ossia risponde alla luce che lo colpisce dando origine o ad un accumulo di elettroni, oppure va a modulare dei segnali elettrici. Le, passatemi il termine, informazioni luminose, saranno poi quelle che daranno origine alla nostra fotografia. Il sensore è suddiviso in tante parti dette foto city, delimitate in modo differente in base alla tecnologia costruttiva. Queste parti formano una scacchiera, una sorta di matrice di aree. Più sono queste aree e più pixel avrà il sensore e quindi la fotografia catturata. Queste piccolissime porzioni, non per forza di forma quadrata, sono ognuna in grado di rilevare in maniera indipendente quanta luce le colpisce e sono la base per creare immagini, rigorosamente in bianco e nero. Chiaramente questa è una spiegazione semplicistica, nei video dedicati vi spiegherò in modo accurato come funzionano effettivamente i sensori ccd, i cmos, vi parlerò anche di come erano i super ccd di fujifilm e i jfet labcast di nikon. Vedremo anche i foveon e ne analizzeremo vantaggi e svantaggi. Vi parlerò anche delle strutture fsi e bsi, ossia frontside illuminated e backside illuminated e di come queste influenzano l'efficienza quantica e di conseguenza anche la qualità delle immagini. In un video vi spiegherò che cos'è l'efficienza quantica e di come la tipologia di sorgente luminosa può influenzare anche pesantemente la resa dei sensori. Vi sarà finalmente chiaro come sia possibile che un sensore densissimo, come per esempio quello di D850, possa rendere così tanto bene ad alti ISO. Vi parlerò anche di strutture staked, ossia stratificate, usate per esempio dal sensore della Nikon Z9 o quello della Sony Alpha A1 e vedremo perché questa tecnologia è una vera rivoluzione e cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo futuro. Bene, stavamo dicendo che il sensore cattura informazioni luminose e queste ci dicono quanta luce ha colpito il singolo fotocito ma non danno nessuna informazione riguardo il colore. Per determinare il colore della luce si possono utilizzare vari sistemi, il più comune è una matrice colore, la più diffusa in assoluto è la matrice di Bayer, altre sono per esempio la X-Trans di Fujifilm. Cos'è questa matrice colore? È uno strato di materiale sottilissimo che ricopre il sensore vero e proprio. Questo elemento permette di filtrare la luce con i tre colori RGB, rosso, verde e blu o molto raramente altri differenti. Con le matrici più comuni ci saranno dei fotociti con applicato il filtro rosso, altri con il filtro verde, altri ancora con il filtro blu. In alcuni rari casi uno su quattro sarà senza filtro, in tal caso saremo di fronte a delle matrici RGBW, bianco, rosso, verde e blu. Ma più comunemente le matrici usano solo i tre colori RGB. Lo schema di questi filtri colorati può variare, per esempio X-Trans e Bayer non hanno la stessa matrice, quello che è comune è entrambi che ogni quattro fotociti ce ne saranno due con i filtri verdi, uno rosso e uno blu. Esistono poi metodi alternativi per rendere a colori un sensore che altrimenti sarebbe monocromatico. Il più noto è il Foveon che al posto che usare una matrice colore usa più strati sensibili a lunghezze d'onde diverse posti uno sull'altro. Vi sono anche altre soluzioni, una per esempio consiste nello scomporre la luce nei tre colori RGB usando un apposito prisma e poi catturare le tre immagini risultanti con altrettanti sensori. Altri ancora comportano l'utilizzo di filtri intercambiabili, ma sono generalmente tecnologie che non si usano nelle fotocamere commerciali. Vengono utilizzate in astrofotografia o, come nel caso dei tre ccd, erano largamente impiegate in dispositivi come le telecamere analogiche. In ogni caso, per trasformare le informazioni della sola luminosità raccolta dal sensore e interpretare i colori filtrati dalle matrici o strati, un algoritmo processa i dati e ne ricava immagini a colori. Tutta questa parte del colore è argomento di un video dedicato. Davanti al sensore ed eventuali filtri colore troviamo a volte delle microlenti e sempre un filtro che viene comunemente ed erroneamente chiamato low pass. In realtà non è un termine sbagliato ed è convenzionalmente accettato come corretto, è solo molto riduttivo. Si tratta di una serie di filtri. Generalmente vi è un low pass, un high pass e a volte ci sono anche degli anti-aliasing. Ma tutto ciò sarà argomento di uno specifico video in cui vi parlerò anche dell'importanza delle microlenti, specialmente quando si usano lenti dal breve tiraggio progettate in epoca pre-digitale, come per esempio molti obiettivi Leica a Bayonetta M. Ho intenzione di realizzare un video anche per parlarvi del binning, dirvi cos'è, raccontarvi la storia di alcune fotocamere che hanno questa tecnologia e spiegarvi perché quando vi dicono che un cellulare fa il binning dei pixel, in realtà vi stanno mentendo. Infine, un filmato sarà dedicato a un argomento molto gettonato, ossia cosa realmente sporca il sensore e vi darò alcuni consigli per far sì che si sporchi il meno possibile. Ok, questa era solo l'introduzione. Se vi sembra che vi abbia dato già tante informazioni, sappiate che abbiamo appena sfiorato la punta dell'iceberg di nozioni sui sensori. Anzi, non l'abbiamo nemmeno sfiorato l'iceberg, lo abbiamo guardato e molto molto da lontano. Non posso negare che realizzare questa serie di video è stato un lavoro mastodontico, sia di ricerca che di montaggio per cercare di darvi informazioni corrette e mettere delle grafiche che diano un contributo visivo alle mie parole. Vi chiedo dunque più che mai di mettere un mi piace al video e, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale per contribuire alla sua crescita. Se invece volete contribuire a livello economico, potete abbonarvi a questo canale o comprare uno dei gadget ufficiali nei link qui sotto in descrizione. Grazie per aver visto il video fino in fondo e buona visione del prossimo. Se sei arrivato fino a questo punto, commenta scrivendo più sensori per tutti. Ciao da Riccardo Bucchino